Mi chiedo per favore, consenta Kojiro Ryuga di scendere in campo. Presumo che l'abbia messo fuori Rosa perché ha abbandonato la squadra e è venuto da me ad Okinawa. Capisco le sue ragioni, ma per questa volta la prego di essere comprensivo e perdonarlo. Anche perché non è stata una sua idea, mi ho chiesto io di raggiungermi. Grazie.